Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di Tom Ellis. Sì, perché è il diavolo appunto della serie Lucifer, presa da un anonimo fumetto di Neil Gaiman. In realtà ha tante cose che magari potreste non conoscere, infatti non so se lo sapete, ma inizialmente lui girava delle serie comiche. Di fatto lui è un attore comico. Questa è solo una delle piccole curiosità che andiamo a vedere, quindi andiamo subito a vedere questa lista che ho stilato. Pensate che il suo esodio televisivo risale al 2000, in un episodio di Kiss Me Kate. Successivamente poi presterà il volto a Samford, un personaggio già citato nelle precedenti stagioni, ma che poi arriverà finalmente appunto e interpreterà uno importante nella trama, della serie televisiva abbastanza famosa per il periodo, Merlin. Dal 2009 al 2010 ha interpretato il personaggio di Gary Preston nella serie inglese Miranda e successivamente nel 2014 ha interpretato il ruolo di William Rush, il protagonista della serie Rush. Solo successivamente, purtroppo alla fine appunto di questa serie che ha avuto una sola stagione, se non sbaglio, è riuscito ad avere il ruolo di Lucifer Morningstar e il personaggio principale della serie televisiva Lucifer. Ha preso parte anche come guest star a un episodio di Strain del 2015 e a un episodio in cui interpreta sempre Lucifer della serie Flash del 2019. Nato il 17 novembre del 1978 a Cardiff nel Galles, è crescito in un clima molto religioso. Suo padre, infatti, Christopher John Ellis, era un predicatore battista. Alla madre, invece, Merlin Jean, spetta il merito di aver fatto sviluppare al figlio diversi talenti musicali. Infatti lei era un insegnante di musica e sia lui che le sue sorelle sanno suonare molto bene diversi strumenti musicali. Lui stesso ha affermato di sapere suonare molto bene la tromba, il corno francese e la chitarra. Ha studiato recitazione alla Royal Scottish Academy di Glasgow. E lì, nello stesso periodo appunto in cui studiava, ha avuto occasione di stringere delle amicizie con attori che poi successivamente sono diventati molto famosi. Abbiamo ad esempio le stadi Outlander, Laura Donnelly e Sam Ergan e pensate un po' è anche molto amico di James McAvoy. Tom Ellis, inoltre, ha detto diverse volte di sentirsi un uomo comune. Infatti ama molto il cibo spazzatura come gli hamburger e le patatine fritte e al sollevamento peso e all'allenamento intensivo preferisce lo yoga. Inoltre non ama guidare nel traffico di Los Angeles e preferisce prendere la metropolitana. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Tom Ellis, sembra ci siano state diverse storie importanti. Infatti nel 2005 è stato fidanzato con Estelle Morgan, da cui ha poi avuto una figlia, Nora Ellis. Successivamente, dal 2006 e 2013, è stato sposato invece con l'attrice Thompson Hartwig, scusate la pronuncia, è un po' complicato, da cui ha avuto poi due figlie, Florence e Mernie Ellis. Successivamente, poi dal divorzio di quest'ultima, ha cominciato a frequentare una sceneggiatrice del cast di Lucifer. Meghan Oppenheimer, con cui è convollato a nozze poi il primo giugno del 2019. Alla festa c'erano diversi attori anche del cast di Lucifer. Bene, spero che queste curiosità vi siano piaciute e spero anche di aver trovato qualcosa che magari non conoscevate. Ovviamente è un attore Tom Ellis sulla cresta del lono in questo periodo, quindi è difficile trovare, diciamo, notizie nuove. Spero comunque di avervi intrattenuto in qualche modo in attesa appunto della imminente uscita della quinta stagione e che speriamo sia forte e interessante come le stagioni precedenti. Vi ringrazio per l'attenzione, se vi è piaciuto il video mettete un like oppure andate a vedere anche i vecchi video. Ci sono video molto interessanti che magari sono stati un po' tralasciati in questo periodo di grande apertura appunto di uscita anche finalmente in giro. Io vi ringrazio, comunque mettete un like, vi ricordo che sono in live su Twitch ogni lunedì dall'una alle due e mezza e talvolta anche il venerdì. Il mio canale è MatMark. A guardare comunque vi metto il link sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao!